Ancora bufera sul comune di Salerno. Si amplia nelle ultime ore l'inchiesta della procura cittadina sui presunti appalti truccati alle cooperative in cambio di voti alle elezioni. Nuovi sviluppi con l'iscrizione nel registro degli indagati di altri nomi eccellenti, tra cui anche amministratori. E a Palazzo di Città è tornata anche la squadra mobile per acquisire ulteriore documentazione ritenuta utile dai PM che coordinano l'inchiesta. Altro fronte caldo, quello delle luci d'artista. L'Anac ha acceso i riflettori sulla procedura di gara con cui l'ente ha affidato l'allestimento dell'edizione 2021-2022 all'Art Lux di Paternopoli. L'azienda Irpina è stata l'unica a presentare l'offerta rispetto ai 13 fornitori iscritti nell'albo comunale, dubbi anche sul termine di soli 10 giorni a disposizione per farlo. Mentre il Codacons rilancia, Salerno è una città ormai nel degrado. C'è una situazione salernitana che ci sembra essere caduta in un degrado totale di abbandono. A noi non interessano i retroscena economici, politici, infiltrazioni e quant'altro. Interessa soltanto che la città abbia il suo vivere quotidiano diverso da quello che attualmente sta vivendo. Sull'indagine dell'anticorruzione sulle luci d'artista è intervenuto anche il consigliere comunale Dante Santoro. Abbiamo sempre denunciato i costi spropositati per le luci e ora si apre un nuovo squarcio e un'ulteriore ombra su come la politica abbia gestito in questi anni l'evento che ci è costato più di 50 milioni di euro in un decennio circa.